cari amiche cari amici benvenuti e benvenuti ancora una volta nel giardino posteriore della mia villa di mora dove poche ore fa ieri sera sono stati ospiti graditi i nostri amici con cui abbiamo trascorso una meravigliosa serata una di quelle serate che diciamo scalano rapidamente la classifica delle serate migliori della vita e oggi invece sono qui per continuare diciamo la nostra chiacchierata quotidiana sui principi del transurfing in 78 giorni il principio di ieri era molto importante era lo specchio del mondo e il principio di oggi è in pratica collegato al principio di ieri il principio di oggi è il boomerang cosa dice cosa recita il principio del boomerang che qualsiasi pensiero noi inviamo al mondo esso ci ritornerà indietro come un boomerang appunto che cosa succede per esempio quando uno un uomo odia qualcosa o qualcuno in questo sentimento di odio quest'uomo ci mette tutto se stesso forte una forte diciamo emissione energetica di unione tra anima e e ragione concentrata su quest'odio a questo punto l'immagine che risulta dallo specchio riflette dice diciamo questo 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 stato d'animo e riempie e riempie con riempie di sé tutto lo strato del mondo dell'uomo in questione e mentalmente questo cosa fa ma andate tutti a quel paese dirà ma sì ma andate tutti a quel paese e automaticamente però che succede che lo specchio del mondo riflette questo suo questo suo pensiero è anche lui egli verrà restituito appunto come un boomerang quello che 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 lui ha mandato cioè se lui manda a quel paese qualcuno qualcuno andrà colpa esauvi quindi se mandi a quel paese il mondo il mondo manderà anche te a quel paese quindi il consiglio diciamo il questo principio cosa suggerisce suggerisce di guardarsi bene dall'irradiare negatività nello specchio del mondo perché ne riceveremmo inevitabilmente la stessa risposta anche se da una fonte dice zealand in attesa e conclude dicendo di ricordarsi che anche l'amore è un boomerang chiaro ecco a questo punto come al soldo zealand dopo l'esposizione del principio da un'interpretazione e porta e riporta degli esempi per esempio nel caso specifico riporta riporta il caso in cui qualcuno si guarda allo specchio e colga soltanto i propri difetti e quindi diciamo lo specchio l'immagine riflessa sarà in conformità con i con i nostri pensieri con il nostro atteggiamento e cosa bisogna fare quindi bisogna stare attenti praticamente e concentrarsi soltanto cioè non di c'è bisogna darsi una nuova regola dice zealand non guardare ma dare un'occhiata allo specchio concentrandosi solo selezionando soltanto le cose positive e evitando di osservare quelle negative facendo diciamo passare tutto attraverso questo filtro mentre prima dicendo che noi cosa questa persona cosa faceva guarda altro altro solo specchio e contando di no non mi piaccio non mi piaccio non mi piaccio oppure non mi piaccio non mi piaccio adesso invece quando vi concentrerete solo sulle cose diciamo diciamo positive quindi cercando solo le caratteristiche concentrano solo sulle caratteristiche nel caso del tizio che si guarda allo specchio solo sulle caratteristiche che vi piacciono di voi stessi ogni giorno vi renderete conto di come migliorerà la vostra situazione e quindi ogni giorno noi non dobbiamo fare altro che trovare conferme sempre più nuove sui cambiamenti positivi e tutto di giorno in giorno tutto diventerà sempre migliore zealand sostiene che se pratichiamo questa tecnica regolarmente avremo presto solo il tempo di aprire la bocca per lo stupore e a questo punto che si fa seguiamolo questo consiglio di zealand perché tanto come ho detto in passato non costa niente inutile fossilizzarsi sempre su sulle cose negative perché appunto lo specchio del mondo come un boomerang vi ritorni indietro quello che voi avete mandato quindi vi ritornare indietro il riflesso dei vostri pensieri dei vostri stati italiani ecco penso che questo questo sia un altro principio molto importante collegato ovviamente al principio di ieri che era quello lo specchio del mondo diciamo che la pratica non è facilissima perché noi tutti i giorni siamo tempestati da una serie di di situazioni che che provengono da diversi che hanno diverse origini come possono essere i notiziari le persone che negative che conosciamo non lo so parenti colleghi vicini insomma e quant'altro che influenzano il nostro stato d'animo ma noi dobbiamo cercare di di fare una selezione come dice zealand è concentrarci soltanto ed esclusivamente su quello che ci piace sulle cose che positive diciamo e non su quelle che non ci piacciono sia per quanto riguarda noi stessi sia per quanto riguarda qualsiasi cosa che fa faccia parte della nostra realtà a questo punto anche il principio di oggi spero di averlo chiarito non in maniera proprio esaustiva ma in maniera quantomeno chiara e non mi resta altro da fare che salutarvi come al solito con un abbraccio dal profondo del mio cuore e augurarvi una buona domenica e dandovi appuntamento mentre continuerò a studiare sul libro di zealand per voi e dando l'appuntamento sul prossimo video